Due 19 anni feriti di cui uno grave è il bilancio di un violento scontro stradale che si è verificato questa mattina all'alba a Treviglio. È accaduto poco dopo le 5 del mattino. I due giovani di origine indiana e nigeriana stavano percorrendo via Milano a bordo di una Renault Megane. Viaggiavano a velocità piuttosto sostenuta verso il centro cittadino quando, forse per una distrazione o per un improvviso sbandamento del veicolo a causa del suolo bagnato, il guidatore ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a terminare la corsa in un campo adiacente. Prima però la fiancata a sinistra dell'auto ha sbattuto violentemente contro uno dei grossi alberi che delimitano la carreggiata, quindi il forte contraccolpo ha catapultato la macchina nel prato attiguo. L'allarme è stato dato dagli automobilisti di passaggio. Sul posto sono così giunte due ambulanze che hanno trasportato i feriti agli ospedali di Treviglio e Zingonia. Viste le condizioni particolarmente gravi del giovane indiano alla guida della Renault, i sanitari hanno deciso di trasferirlo agli ospedali riuniti di Bergamo dove è ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo ha riportato la frattura della colonna vertebrale e rischia pertanto di rimanere paralizzato. Meno gravi invece le condizioni del passeggero che è stato giudicato guaribile in circa un mese. I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri e dalla polizia stradale di Treviglio.